E' un gioco che su youtube sta andando tantissimo E io non potevo evitare di provarlo Allora, cominciamo Già sono andato un poco avanti perché volevo capire un attimo i meccanismi di gioco E un poco di cose Allora Questo livello è un poco difficile Però poi ho pensato di fermarmi e continuare a giocare con voi Allora, potremmo provare Ragazzi qua è un po' difficile Allora Se io provassi a fare tutto un percorso così No Direi di no Perfetto, proviamo Ok No Questo deve fermare un poco più qua Proviamo così Ok raga Raga ditemi e così va Questo è un gioco che tipo Cioè ci devi pensare proprio E' utile quando torni a casa che sei nervoso e magari è successo qualcosa in classico con i compiti Cioè cose si compiti e cose E' ottimo quando torni a casa che sei nervoso Allora Allora Proviamo a fare Ehm Ehm Potete pensare un attimo Proviamo un attimo Eh Vediamo un attimo come va così Ho messo qua i trampolini un poco a caso Molle Molle anzi Anzi non trapolini molle Però qua l'ho le spinge a sinistra Meno male L'ho le spinge a sinistra Ok Perfetto No Sì ok 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 Dai eh Dai Perfetto Perfetto Non andare su quello là Che non funziona Dai Che ci arrivo Dai raga 773 Quanto devo arrivare? Ok Oh Perfetto Ecco qua E te pareva Ok ragazzi Più o meno potrebbe andare Però In parte devo sistemare un poco E poi Ok Ok c'è tipo qua Qua No Però Ah se ne avessi uno in più raga 150 non ce le ho Spero così ho spostato di pochissimo il tutto Però Magari sarò più fortunato Oh raga forse ho capito Ma facciamolo finire Ma Non si può fare tutto più veloce No Tipo così No Come cavolo Ah ok Ok allora Devo migliorare Allora Fammi rifare tutto Oh no Oh no forse invece si mi sbaglio No Aspettate Ma vedete cambia E' anche un po' fortuna Non è sempre Non dipende sempre da te Dipende anche come ci vai Io tipo Ok se so Più fortunato Di prima Cioè ce l'ho fatta adesso A sbloccare quello Si Scelta di trasporto Perfetto Ok E mettiamolo veloce Ragazzi Ho trovato il metodo di farming infinito Che bello Beh ragazzi Qua Io chiudo questo qua Perché tanto Sennò Non finisce più Arrivo direttamente qua Raga E non mi va Di passare così avanti Allora Chiudo un attimo Voglio soltanto provare un attimo Le armi che ho sbloccato Che bello No ragazzi Devo provarle un attimo Devo provare un attimo Che sta figata Che bello Che No Questa deve essere fantastica Raga Eh Questo ha bisogno di spazio Però No E qua Non c'è Ecco Ok Qua c'è spazio Poi Un solito esporto No Aspettate Blocco B5 Che cavolo è No Che cos'è Devo modificare questo Che cavolo è Blocco B5 Qua mettiamo questo Qua il blocco B5 Lo proviamo a parte Ok Ok Qua mettiamo il blocco B5 Vorrei capire un attimo Che sono Ok Va bene Ne basta uno Voglio soltanto vedere Che effetto ha Sì Sì Spiegate Che cavolo è Che cavolo è Il blocco B5 Oh Alta roba Mitragliatrice Fucile La caccia Quanta roba Ho fatto No eh Mo li devo provare tutti Allora Allora proviamo qua Mitragliatrice E fucile la caccia E mo i trampolini Mo i trampolini Qua quelli a sinistra Qua quelli a destra Qua a sinistra Qua a destra 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 Sinistra Fatevi provare raga Chiudo qua pure Che non vinco Belli Ragazzi Eh vabbè Qua si ara così Raga Con tutte queste armi Qua si ara Peccato le armi così Non fanno tantissimo danno Cioè nel senso Non è che non fanno danno Subito finisco Guardate Vabbè ragazzi Ho provato tutto Direi di concludere qui il video Allora Ditemi se vi è piaciuto Se volete faccio altri video Sopra Come on Come on Come on